Quelle due ore che possono dire la verità sul caso Manzo, i filmati che stanno analizzando i carabinieri di Avellino seguono una traiettoria ben precisa in un arco temporale che va dalle 21.14 alle 23.14 e qui nel raggio di pochi chilometri è sparito Mimim Manzo, il 69enne di Prata Principato Ultra di cui si sono perse le tracce da gennaio 2021. Era l'8 gennaio, la figlia Romina aveva organizzato una festa per il suo compleanno il papà si arrabbia perché vede troppa gente, forse anche droga e alcol Manzo, dai racconti di chi lo conosceva bene, era un tipo irrascibile, quindi sbatte la porta e va via. Sono circa le 21, la chiamata ai carabinieri da parte della figlia Romina arriva però alle 23.20 in queste due ore si cerca la verità, i ragazzi presenti alla festa lo hanno cercato davvero? Sta di fatto che dalle telecamere piazzate in paese si nota un grande via vai di auto piazza Freda, via Cupali, via Nocelleto, via dell'Annunziata, via Marconi da qui transitano una Golf Plus di colore grigio che va avanti e indietro un'Alfa Giulietta Bianca, una T-Rock, poi si vede un'altra Golf arrivare nella zona della Basilica e fermarsi davanti la traversa Fontana del Prete dalla macchina scendono due ragazzi e una ragazza e si dirigono verso la traversa poco dopo gli stessi entrano nell'auto e vanno via, sono le 23.14 dopo 6 minuti la chiamata al 112 della denuncia di scomparsa del padre da parte di Romina fin qui la ricostruzione dei filmati stamattina i carabinieri sono ritornati in zona stazione hanno esteso le loro ricerche anche nella zona del depuratore la sorella di Mimì Lucia rinnova l'appello a chi abbia visto qualcosa di denunciare anche in forma anonima e con le lacrime agli occhi dice lo sogno sempre molto che sta sotto a un canale lui portava sempre l'orologio e mi dice Lucia io sto qua però non so dove l'orologio è un po' di più l'orologio è un po' di più l'orologio è un po' di più